Voglio raccontarti la mia storia, perché è anche grazie a te che mio figlio Samuel spera di tornare ad avere una vita normale. Alla nascita Samuel era un bambino meraviglioso, sano. Dal compimento del quarto mese però, la sua pelle ha iniziato a riempirsi di macchioline rosse e l'infezione. Nessuno capiva che malattia avesse. Dopo cinque anni di calvario è arrivata la diagnosi, una rara patologia che colpisce il sistema immunitario e causa emorragia e infezioni ricorrenti. Quanto riceve queste notizie tutto cambia, niente è più come era prima. Avevamo davanti due possibilità, la prima era il trapianto di meddolo, ma presto abbiamo scoperto che nessun familiare era compatibile. La seconda speranza era fidata alla terapia genetica, una soluzione ancora sperimentale sulla quale riponevo grande fiducia. Samuel è stato sottoposto alla prima cura avviata al mondo su questa malattia. Una cura che potrebbe farlo guarire completamente. Potrei sforzarmi di trovare le parole più adatte, ma nessuna sarebbe sufficiente per descrivere quello che provo e per ringraziare Teleton, i suoi ricercatori e tutti quelli che li hanno sostenuti. Questa è la lettera della mamma di Samuel a Teleton.